Oggi nuova video recensione che in realtà sarà più una chiacchierata a ruota libera sul film in questione e questo perché mi sono reso conto e mi sto rendendo conto che con il passare delle ore, con il passare dei giorni dopo aver visto questo film credo che per poterlo valutare appieno, per poterlo anche apprezzare appieno, sia necessario innanzitutto rivederlo e io non credo purtroppo che riuscirò a rivedere questo film in sala, quindi non credo di potermi concedere un rewatch a breve termine ed inoltre nei prossimi giorni, nelle prossime settimane dovrò anche approfondire parecchio quella che è la vita del regista di questo film non perché sia strettamente vincolante fare questo per poter valutare, per poter apprezzare questa pellicola ma sicuramente fare questo mi permetterà di andare in qualche modo a cogliere tutta una serie di aspetti che in questo momento mi sembrano un po' oscuri però ci arriveremo con calma, prima di iniziare io come sempre vi ricordo innanzitutto di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, molti di voi guardano i miei video senza essere iscritti quindi se volete supportare la crescita del canale iscrivetevi, attivate anche la campanella poi se volete anche supportare questo video, magari stimolando l'algoritmo di youtube lasciate un like, commentatelo con la vostra opinione su questo film di cui parleremo oggi condividete il video ovunque vogliate e poi in descrizione vi ricordo che potete trovare anche i link della mia pagina instagram della mia pagina facebook e del mio canale telegram, se volete mi potete seguire anche lì io innanzitutto mi scuso per la voce ancora un po' nasale ma sto praticamente uscendo in questo periodo in questi ultimi giorni da un, davvero da 15 giorni devastanti di inizio anno per quanto riguarda l'influenza in famiglia l'abbiamo avuta sia io che mia moglie, siamo stati davvero devastati a letto tra raffreddore, febbre tutto quello che ne consegue, anche per questo motivo tra l'altro ho dovuto rimandare la visione del film di cui parleremo oggi ed infatti arrivo con notevole ritardo rispetto a tante altre persone ma come sempre dico sti cazzi basta parlarne ma il mio canale non è mai orientato alla, come dire, recensione rapida, immediata di un film uscito in sala oggi voglio appunto parlarvi di questa pellicola che mi ha colpito nel profondo e sto parlando infatti del film Il ragazzo e l'airone di Ayao Miyazaki, del maestro Miyazaki, film quindi targato Studio Ghibli film del quale vi parlerò senza fare nessun tipo di spoiler quindi se non avete ancora visto il film, se magari siete interessati a vederlo nei prossimi giorni potete comunque guardare questo video fino alla fine proprio perché non voglio spoilerare nulla non voglio rovinarvi la visione del film chiaramente facciamo come sempre un brevissimo cenno di trama per capire di che cosa stiamo parlando ed il film infatti racconta la storia di Makito, un bambino, un ragazzino più che altro di circa 12 anni che fin dalle primissime battute del film noi lo vediamo impegnato purtroppo in una situazione tragica perché? Perché a causa di un incendio che va a devastare all'ospedale Makito purtroppo deve fare i conti con la morte della madre questo poi la porterà in qualche modo a dover cambiare vita perché insieme al padre si trasferirà e tra l'altro il padre avrà poi anche una nuova relazione con quella che è la sorella della madre defunta Natsuko, tra l'altro questa è una usanza diciamo è qualcosa che a livello del mondo orientale diciamo soprattutto in Giappone da quello che so, da quello che ho capito succede, succedeva particolarmente di frequente tra l'altro Natsuko, quindi la matrigna di Makito, aspetta un bambino ma la vita di Makito cambia radicalmente nel momento in cui viene a sapere che in realtà sua madre dovrebbe non poter essere, cioè dovrebbe non essere morta ed inoltre Natsuko scompare da quella che è la dimora nella quale vanno a vivere insieme al padre ed infatti tutto questo porterà Makito, grazie anche all'intervento di una creatura particolarmente inquietante soprattutto all'inizio, un Airone, che infatti farà capolino nella vita di Makito farà sì che appunto il ragazzo insieme anche a questa creatura si addentreranno in una torre presente in questa dimora gigantesca nella quale vanno a vivere entrando in un mondo fantastico dove vivranno appunto tutta una serie di avventure che poi porteranno lo stesso Makito a fare degli incontri molto molto speciali e mi fermo qua, non voglio dirvi altro, non voglio approfondire più di tanto anche perché c'è da dire, il ragazzo dell'Airone è un film che ha avuto una storia produttiva molto particolare innanzitutto ricordiamo che arriva a circa, sì, a dieci anni di distanza da quello che era stato l'ultimo film di Hayao Miyazaki ormai il penultimo possiamo dirlo, si alza il vento tra l'altro già si alza il vento, era stato in qualche modo presentato, distribuito e quindi arrivava al grande pubblico con la nomina del fatto di essere l'ultimo film di Hayao Miyazaki un film testamento, così poi non è stato ovviamente anche perché qualche anno dopo Hayao Miyazaki annunciò appunto di essere già al lavoro per un altro film d'animazione un film d'animazione che però è rimasto avvolto nel mistero quasi tutto quello che riguardava questo film risultava essere segreto ed è rimasto anche segreto fino davvero agli sgoccioli fino a quando il film poi non è stato effettivamente distribuito in Giappone, poi negli Stati Uniti infine anche qui in Italia tanto che infatti l'unico elemento che abbiamo avuto a disposizione per poter un minimo fantasticare su questa pellicola era una sorta di protolocandina se ve la ricordate era quella quell'immagine su sfondo bianco che raffigurava un airone abbastanza stilizzato e basta l'altra cosa che in realtà in qualche modo ha accompagnato la produzione di questo film era anche il riferimento ad un romanzo giapponese degli anni 30 How do you live? voi come vivrete che appunto inizialmente si pensava potesse rappresentare la base per poi la trasposizione cinematografica del film anche se poi in realtà si è capito poi quando il film è uscito effettivamente che di quel romanzo nel film d'animazione di Miyazaki in realtà non c'è nulla praticamente è soltanto un riferimento al titolo con il titolo del libro tra l'altro che ritorna anche nel film nella storia non vi dico come non vi dico quando ma in realtà poi la storia del film il ragazzo e l'airone si distacca completamente ed infatti perché questo? perché il film il ragazzo e l'airone è fondamentalmente un film dal forte dal fortissimo sapore autobiografico per quanto riguarda Ayao Miyazaki già questo lo si era detto per Si alza il vento se ricordate quando appunto uscì nelle sale Si alza il vento in tantissimi lo andavano appunto ad etichettare come l'ultimo film di Miyazaki il film Testamento di Miyazaki una sorta di film autobiografico perché? perché soprattutto il personaggio principale il personaggio maschile di Si alza il vento aveva tante caratteristiche che rimandavano proprio alla figura di Ayao Miyazaki ed era vero ovviamente ma probabilmente tutto questo va ad ingigantirsi ancora di più e risulta essere ancora più vero proprio nel film il ragazzo e l'airone il film il ragazzo e l'airone è un film che chiaramente racconta una storia fantastica è una sorta di fiabba o favola moderna ovviamente possiamo dire così ma tantissime delle cose che vengono raccontate in questo film tantissimi dei diciamo di quelli che sono gli eventi presenti in questo film sono davvero trasposti quasi uno a uno da quella che è la vita di Ayao Miyazaki ed è per questo motivo come dicevo all'inizio che io sento la necessità di dover approfondire in maniera importante quella che è la vita del maestro Miyazaki che conosco in linea generale ma non in maniera approfondita proprio perché sono dell'idea che il film per quanto sia ovviamente valutabile già così quindi anche se qualcuno non dovesse conoscere per nulla la vita di Miyazaki se non dovesse neanche mai avere visto un film dello studio Ghibli il ragazzo e l'airone è comunque un film che bisogna vedere bisogna conoscere perché è un film davvero maestoso per tanti punti di vista però è chiaro che andare a conoscere i dettagli il background che c'è appunto dietro questo film potrebbe in qualche modo arricchire l'esperienza di visione ed è quello che appunto farò nelle prossime settimane ma chiaramente voglio parlarvene perché sono dell'idea innanzitutto che i film dello studio Ghibli vadano visti tutti anche quelli meno riusciti i film meno riusciti dello studio Ghibli generalmente sono comunque superiori alla stragrande maggioranza dei film d'animazione presenti in giro magari di altre case di produzione e anche quelli che vengono maggiormente bistrattati io tendo comunque ad apprezzarli solitamente quando vado a parlare dello studio Ghibli l'unico film che io considero purtroppo non riuscito è quello che il penultimo cioè Erwig e la strega un film che purtroppo non mi ha convinto per tanti motivi ma in generale poi nel complesso lo studio Ghibli ci ha regalato capolavori totali capolavori immortali ma tantissimi buoni film io non so se il ragazzo e l'airone potrà entrare nella cerchia dei grandi capolavori credo che non sia neanche corretto fare delle supposizioni di questo tipo in questo momento il film è uscito da troppo poco tempo e come sempre il capolavoro lo decide il tempo lo dichiara lo decreta il tempo quindi staremo a vedere se fra dieci anni fra vent'anni saremo ancora qui a parlare del ragazzo e l'airone allora probabilmente sì ci sono tutte le caratteristiche bisogna dirlo ci sono tutte le caratteristiche per poter in qualche modo ipotizzare che il ragazzo e l'airone possa essere considerato uno dei capolavori dello studio Ghibli e uno dei capolavori di Hayao Miyazaki ripeto è troppo presto per dirlo è un film molto particolare perché perché non si come dire non si lascia interpretare facilmente cosa voglio dire con questo se avete un minimo di esperienza con i film dello studio Ghibli e soprattutto anche con i film del maestro Miyazaki generalmente i film dello studio Ghibli e del maestro Miyazaki sono sempre come dire film che possono essere come dire visionati possono essere valutati possono essere goduti secondo diversi modi di approccio mettiamola così si può chiaramente guardare un film semplicemente seguendo la storia in maniera abbastanza più o meno lineare a seconda chiaramente del film che prendiamo in considerazione e quindi godersi la storia per quella che è e questo succede quasi sempre con i film dello studio Ghibli non soltanto di appunto di Hayao Miyazaki però è pur vero che nella stragrande maggioranza dei casi i film dello studio Ghibli poi hanno tutta una serie di come dire diciamo sottotesti tutta una serie anche di sfumature simboliche allegoriche tutta una serie anche di riferimenti culturali a quello che è il mondo orientale ma non soltanto riferimenti anche a quello che è la stretta attualità seppur spesso con delle ambientazioni che fanno fanno riferimento ai decenni scorsi anche il ragazzo dell'aerone è ambientato negli anni 40 durante la seconda guerra mondiale cosa che succede spesso tra l'altro nei film dello studio Ghibli ma è ovvio che moltissime delle cose che vengono raccontate in un film come questo hanno comunque dei riferimenti anche in quella che è la stretta attualità questo succede sempre per quanto riguarda il ragazzo dell'aerone però io ho notato guardando questo film una complessità ancora maggiore per quanto riguarda la storia che viene raccontata una complessità che non impedisce di seguire il film e di poterlo apprezzare però come dicevo poc'anzi io sono dell'idea che questo film più di tutti gli altri sia pieno zeppo davvero in maniera quasi come dire continuativa durante la storia di tutta una serie di riferimenti alla vita di Miyazaki a quella che è la cultura giapponese a tutta una serie anche di aneddoti che il maestro Miyazaki probabilmente ha vissuto nella sua vita e li ha trasposti in quello che appunto è questo suo ultimo film non sapremo ancora mai diciamo in questo momento non possiamo dire se sarà il suo ultimo film definitivamente potrebbe anche essere chiaramente quindi è un film che ha tantissime citazioni easter eggs mi verrebbe anche da come dire da definirli tutta una serie di riferimenti che purtroppo io non riesco a cogliere al 100% me ne rendo conto e per questo motivo quindi voglio approfondire però fatto salvo questo mettendo da parte comunque questo tipo di ragionamento il film ragazzo Lerone è un film davvero maestoso sotto tutti i punti di vista e non avevo grandi dubbi al riguardo perché questa è come dire la sensazione che io vivo quasi sempre con i film dello studio Ghibli e vivo sempre con i film del maestro Miyazaki è una pellicola che innanzitutto e vabbè e lì ripeto non c'è nulla da sorprendersi risulta essere pressoché perfetta da un punto di vista dell'animazione e qui siamo di fronte a quelle che sono le caratteristiche peculiari dei film dello studio Ghibli un'animazione vecchio stile un'animazione che non è cambiata nel corso degli anni soprattutto per quanto riguarda il maestro Miyazaki perché perché Erwig la strega di cui parlavo poco fa di cui facevo cenno poco fa in realtà è un film che in qualche modo ha provato a innovare in qualche modo ad esplorare anche dei territori di animazione che fino a quel momento non erano mai stati toccati perché c'è anche l'utilizzo di animazione 3D probabilmente non con dei risultati particolarmente esaltanti quindi è probabilmente meglio per lo studio Ghibli affidarsi alle metodiche tradizionali e quando c'è di mezzo il maestro Miyazaki il risultato è garantito quindi da quel punto di vista nessuna sorpresa il film è una gioia per gli occhi dall'inizio letteralmente fino alla fine anche per questo motivo io credo sia un film da dover guardare al cinema per la prima volta poi ovviamente le successive visioni possono anche essere in streaming in home video tutto quello che volete ma la prima volta per un film dello studio Ghibli io credo debba essere se è possibile necessariamente al cinema io infatti per questo motivo come dire nel corso degli anni scorsi mi sono in qualche modo come dire affrettato nell'andare a vedere in sala quelli che sono i film dello studio Ghibli del passato se vi ricordate sono stati riportati al cinema attraverso delle iniziative particolari perché per questioni anagrafiche non li avevo mai visti al cinema li ho recuperati in sala e infatti l'effetto è stato come dire dieci volte migliore di quelle che sono state le tantissime visioni domestiche e questo vale anche per il ragazzo e l'airone quindi animazioni stratosferiche di livello totale di livello assoluto dall'inizio letteralmente quando siamo già catapultati in quella che è la realtà tragica del film quindi non vi voglio spolerare nulla ma ripeto la tragedia che colpisce Maito noi la vediamo nei primissimi minuti del film e già lì entriamo in una situazione davvero che ci va a devastare anche da un punto di vista psicologico il film poi è un film riuscito anche da un punto di vista della colonna sonora e vabbè anche qui nessuna sorpresa perché la collaborazione ormai storica tra Studio Ghibli Ayao Miyazaki e Joey Saishi io credo sia tra le collaborazioni più proficue più davvero esaltanti dell'intera storia del cinema non soltanto del cinema d'animazione e anche in questo caso il maestro Joey Saishi probabilmente ispirato nuovamente da quelle che sono le opere da quella che l'opera del maestro Miyazaki ha sfornato un'altra colonna sonora emozionante una colonna sonora che entrerà probabilmente anche questa nella storia e per quanto riguarda il film come dicevo è un film comunque godibilissimo è un film che riesce ad emozionare riesce a in qualche modo a far catapultare lo spettatore in questo mondo fantastico in questo mondo fiabesco ma allo stesso tempo anche inquietante che Ayao Miyazaki concepisce e che riesce in qualche modo a regalarci con un alto livello di spettacolarità ma anche come dicevo poco anzi con un alto livello anche di diciamo punti di riflessione perché ripeto i film dello studio Ghibli a prescindere che poi si possa conoscere o meno nel dettaglio la vita del maestro Miyazaki sono comunque sempre strettamente legati a delle tematiche che ritornano di film in film tematiche ambientalistiche chiaramente anche una sorta di riferimento a quella che appunto la cultura giapponese è legata anche ai quattro elementi della terra quindi terra fuoco aria acqua in questo film tra l'altro si dà ampio spazio anche a quello che è l'elemento della terra che diventa centrale in quella che è la storia di Mahito e di quelli che sono i personaggi che lo circondano un'altra straordinaria caratteristica di questo film come dicevo proprio perché fa riferimento anche alla vita di Ayao Miyazaki io credo sia legata proprio alla volontà di omaggiare un'altra figura fondamentale dello studio Ghibli purtroppo ormai scomparsa da qualche anno ed è il maestro Isao Takahata tra l'altro proprio la scomparsa di Takahata a quanto pare ha creato anche delle difficoltà nella produzione di questo film rallentandola facendo aumentare anche i costi e probabilmente anche per questo non hanno fatto praticamente campagna marketing da quello che si è detto il maestro Miyazaki ha voluto omaggiare anche quello che è stato il suo compagno artistico di una vita rivale tra virgolette anche se poi in realtà erano grandi grandissimi amici tanto che infatti il maestro Takahata da quello che appunto si capisce guardando il film è chiaramente una supposizione ma è una supposizione che trova molti d'accordo il maestro Takahata è rappresentato dalla figura dell'airone questo airone inquietante all'inizio è una figura anche abbastanza ambigua per quelle che sono le sue caratteristiche sembrerebbe quasi essere il villain della situazione poi le cose si evolvono in una determinata maniera che non vi sto qui a spoilerare però ecco proprio la figura della figura dell'airone è stata identificata praticamente da tutti proprio in quella che è la figura del maestro Takahata il maestro Takahata la cui scomparsa ha segnato ripeto profondamente a Yao Miyazaki grandi amici grandi artisti che hanno fondamentalmente dato vita allo studio Ghibli sono i due padri fondatori dello studio Ghibli quindi c'è anche un forte sapore malinconico in questa pellicola un forte sapore nostalgico in questa pellicola e ripeto anche per questo motivo potrebbe essere il testamento artistico di Ayao Miyazaki anche perché e cerco di farvelo in qualche modo capire senza spoilerarvi nulla questo è un film che Ayao Miyazaki ha voluto realizzare non tanto per arrivare allo spettatore è chiaro che quando realizzi un film lo fai per poter arrivare al tuo pubblico ma sembra quasi essere una sorta di confessione sembra quasi di essere di fronte ad un uomo che vuole raccontare tutto quello che sente ancora di dover dire a qualcuno ma fondamentalmente soprattutto a se stesso cercando di liberarsi anche di alcuni demoni interiori con i quali comunque dovrà fare i conti probabilmente fino alla fine della sua vita è un film che Ayao Miyazaki cerca di in qualche modo realizzare trasponendo se stesso in diverse figure del film ora in tanti hanno chiaramente fatto il collegamento giustissimo e credo immediato tra il maestro Miyazaki e la figura di Mahito il ragazzino di 12 anni appunto protagonista del film e io sono d'accordissimo ma sono dell'idea in realtà che nel film ci sia un'altra figura importante che potrebbe rappresentare lo stesso maestro Miyazaki ora non voglio spoilerarvi nulla chi ha visto il film però può ricordare diciamo è il prozio non vi dico nient'altro è una figura che tende a comparire nella parte finale della pellicola e io sono dell'idea che in questo in cui diciamo nel ragazzo è l'airone il maestro Miyazaki quindi Ayao Miyazaki sia rappresentato sia da Mahito quindi sia dal personaggio più diciamo giovane il fanciullo ma anche da questo personaggio più anziano quindi è come una sorta di ricongiunzione tra due come dire fasi anche della vita stessa di Miyazaki che tendono in qualche modo a ritornare a venirsi incontro l'una con l'altra cercando di trovare quindi una sorta di come dire conciliazione non so come dirlo meglio le due fasi della vita di Miyazaki che si incontrano nuovamente portando poi a quella che è la conclusione del film che ovviamente non vi sto qui a spoilerare ovviamente come dicevo anche poc'anzi forti sono i rimandi autobiografici Miyazaki ha perso la madre da giovane e quindi il personaggio di Mahito perde la madre da giovane da quello che ho letto Miyazaki è rimasto anche sconvolto in età adolescenziale dalla devastazione di un ospedale a causa di un incendio ed è quello che succede nel film all'inizio quindi ripeto non è uno spoiler perché inizia il film inizia in questo modo e nei primissimi secondi quindi tutta una serie di elementi presenti in questa pellicola fanno riferimento alla vita di Miyazaki ed è per questo motivo che voglio approfondirla ulteriormente però ripeto è una pellicola che riesce comunque ad emozionare riesce comunque a mostrarsi in tutta la sua grandezza in tanti hanno detto che questo è un film con il quale difficilmente si empatizza o meglio i personaggi di questo film sono dei personaggi con i quali difficilmente si empatizza sì forse è vero forse è vero nel senso che io non ho trovato o meglio non sono riuscito in qualche modo a provare lo stesso trasporto emotivo con il quale di solito io mi approccio alla visione del film la città incantata che per molti è come dire una sorta di film specchio del ragazzo dell'aerone perché anche nella ragazza incantata la protagonista si addentrava in un mondo fantastico oppure il trasporto emotivo che ho sempre quando guardo il castellorante di Aul oppure ancora Porco Rosso Nausicaa o anche altri film non di Miyazaki necessariamente e io posso anche capirlo ma io credo che per questo film valga lo stesso ragionamento che abbiamo fatto durante quest'anno o meglio durante il 2023 per altre pellicole perché dico questo perché dobbiamo considerare che il ragazzo dell'aerone è un film ideato progettato messo in scena realizzato da un uomo di più di 80 anni quindi non è più il Miyazaki di 20 anni fa o di 40 anni fa ovviamente stiamo parlando di un uomo di 80 anni consapevole fondamentalmente del fatto di essere ormai in quella che è la fase conclusiva della sua vita quindi è un uomo un artista un genio che sta cercando in qualche modo di tirare le somme di una vita chiaramente spesa da un punto di vista pubblico da un punto di vista professionale spesa per quello che è il mondo dell'animazione per lo studio Ghibli spesa anche per il suo pubblico ma in questo film probabilmente Miyazaki tra mille virgolette se ne sta un po' fregando anche di quelle che sono le opinioni del pubblico di quella che può essere la risposta dello spettatore al suo film lui ha voluto raccontare una storia davvero fortemente personale come ripeto forse non era mai successo negli altri film dello studio Ghibli proprio quasi per esigenza personale quasi proprio per volere in qualche modo liberarsi di tutto quello che forse ancora non aveva raccontato pensava di dover raccontare prima che fosse troppo tardi lasciatemi dire e quindi a prescindere da quella che poi poteva essere o meno la risposta del pubblico però a prescindere ripeto da questo il film è un film gigantesco quindi non credo che le due cose possano essere scisse in maniera netta quindi Miyazaki ha voluto creare la sua opera autobiografica il suo testamento artistico chiamatelo come volete fregandosene anche di quella che poteva essere la risposta del pubblico ma in realtà ha realizzato un'altra opera d'arte quindi anche non mettendosi di impegno secondo me Ayao Miyazaki realizzerebbe dei grandi film quindi non c'è il pericolo di rimanere delusi e di non trovare qualcosa di importante il ragazzo l'airone è l'ennesimo film importante dello studio Ghibli il film che probabilmente chiuderà la carriera di Ayao Miyazaki e se così fosse probabilmente la chiuderà nella maniera migliore possibile io gli auguro ovviamente di no io mi auguro che nei prossimi anni possano arrivare altre altre pellicole da parte del maestro Miyazaki però visti i tempi di produzione visto quello che è il lavoro necessario dietro la realizzazione di un film d'animazione dello studio Ghibli beh cominciamo a pensare al fatto che potrebbe davvero essere la sua ultima opera e mi andrebbe benissimo sarei chiaramente triste il tutto viene chiaramente ammantato da un'aura di nostalgia di malinconia ma il ragazzo l'airone io credo sia davvero il film perfetto in questo senso forse non è un film perfetto al 100% non è un film esente da problemi è probabilmente davvero un film forse troppo criptico in alcuni momenti ermetico mi verrebbe quasi da dire in alcuni momenti un film dal forte sapore allegorico simbolico però va benissimo così era così probabilmente che Hayao Miyazaki doveva rappresentare le ultime cose che aveva da dire a tutto il mondo che lo ha amato nel corso degli anni nel corso dei decenni senza necessariamente ripeto dover dare delle spiegazioni dover chiarire in maniera limpida e cristallina tutto ciò che aveva da raccontare perché io me ne rendo conto che tante cose presenti in questo film non hanno una spiegazione immediata non hanno una spiegazione lampante palese evidente molte delle cose che vengono mostrate in questo film vengono anche lasciate alla libera interpretazione dello spettatore molte delle cose che compagno in questo film probabilmente una spiegazione non ce l'hanno davvero ma va benissimo così non bisogna necessariamente trovare come dire un riferimento didascalico in quello che viene raccontato in un film ma questo a prescindere dallo studio Ghibli questo è vero sempre nei film non è necessario che un regista ti vada a imboccare quella che è la sua idea quello che è il suo pensiero perché potrebbe anche darsi che in realtà il regista non abbia un pensiero come dire chiarissimo al 100% ma si lascia andare soprattutto poi quando si parla di cinema d'animazione si lascia andare a suggestioni emozioni tutta una serie di appunto suggestioni anche visive che vengono poi portate sullo schermo tanto che infatti ci sono delle scene in questo film che davvero tolgono il fiato proprio anche per la componente quasi onirica con la quale vengono vengono messe in scena ora anche qui non voglio fare spoiler ma la scena dei Wara Wara che ascendono al cielo è da pelle d'oca per quello che è il senso profondo chiaramente della scena ma anche per come è stata realizzata e ripeto non è necessario poi trovare delle spiegazioni a tutto quello che succede per esempio in tanti hanno criticato la figura dei pellicani perché non c'è una spiegazione ben precisa su quello che è il comportamento dei pellicani chi ha visto il film sa di che cosa sto parlando ma va benissimo così va benissimo così è giusto anche lasciare il tutto un po' così nel mistero nel segreto magari sono cose che con il passare del tempo con il passare delle settimane vengono metabolizzate dallo spettatore sedimentano nella mente nel cuore dello spettatore e poi magari si arriva a delle conclusioni a delle interpretazioni che non saranno mai giuste al cento per cento ma va benissimo così è giusto che tutto venga portato avanti in questo modo io davvero vi invito caldamente appunto ad andare a vedere i ragazzi e lairone al cinema sia perché tra l'altro sta avendo un successo clamoroso anche in Italia la cosa mi sta davvero sorprendendo in positivo perché un film dello studio Ghibli che risulta essere in testa al box office italiano per tanti giorni è qualcosa che io non mi sarei mai aspettato perlomeno non in Italia quindi sono contentissimo che anche il pubblico generalista stia accogliendo questo film come merita come grande film qual è quindi andatelo a vedere se non l'avete ancora visto perché vi regalerete un'esperienza di visione molto particolare non ripeto semplice ma è giusto che sia così è giusto che sia così e poi se non avete ancora mai visto un film dello studio Ghibli potrebbe essere l'occasione giusta per intraprendere un cammino che vi regalerà davvero delle pellicole che sono delle opere d'arte sono dei gioielli di inestimabile bellezza quindi davvero se non avete ancora mai visto un film dello studio Ghibli avete di che guardare avete tantissimi capolavori da dover recuperare quindi questa era la mia recensione come avete capito è stata più una chiacchierata ruota libera sul ragazzo e l'aerone fatemi sapere adesso voi che ne pensate fatemi sapere se il film vi è piaciuto se non vi è piaciuto ovviamente fatemi sapere i motivi qui sotto nei commenti perché come sempre vi leggerò e vi risponderò molto molto volentieri quindi ci becchiamo qui sotto io come sempre vi ringrazio per il tempo che decidete ogni volta di regalarmi guardando i miei video anche quando ho questa voce non particolarmente attraente mettiamola così io vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto attivate la campanella poi per supportare questo video potete lasciare un like commentarlo come vi ho detto qui sotto condividerlo ovunque vogliate poi vi ricordo in descrizione trovate i link della mia pagina facebook della mia pagina instagram del mio canale telegram se volete mi potete seguire anche lì trovate la mia wishlist amazon se volete farmi un regalo un link amazon da poter usare per fare qualunque vostro acquisto perché voi non spenderete un centesimo in più ma una piccola parte della vostra spesa sarà girata da amazon al sottoscritto e poi ci sono anche delle modalità per fare delle piccole donazioni al canale qualora lo vogliate noi ci diamo appuntamento ad un prossimo video ad una prossima video recensione la voce mi sta abbandonando in una delle tante puntate e delle rubriche che sto portando avanti nel mio canale io come sempre vi auguro una buona continuazione di giornate e ci vediamo presto ciao a tutti ciao a tutti